La Svizzera apre ai matrimoni omosessuali e permetterà alle coppie lesbiche l'accesso alle banche del seme. Tutte le forze politiche del Parlamento confederale, esclusa l'estrema destra, hanno votato a favore del matrimonio. I cristiano-democratici hanno escluso il paragrafo sulla donazione di sperma. Siamo soddisfatti, è stata la maggioranza chiara del Consiglio nazionale, l'accettazione del matrimonio omosessuale, inclusa la donazione di seme è enorme. Siamo felici. Stiamo veramente raggiungendo una condizione di eguaglianza da tutti i punti di vista. Vuol dire che ci sarà il matrimonio, ci sarà il diritto all'adozione, ci sarà il diritto alla procreazione assistita. Insomma, i diritti delle coppie eterosessuali li avremo anche per quelli omosessuali. Il cammino legislativo non è ancora del tutto compiuto. Il provvedimento dovrà passare al vaglio della Camera Alta, il Consiglio di Stato. E un partito della destra evangelica vuole promuovere un referendum abrogativo, anche se il Parlamento voterà a favore della legge.